Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi costruiremo due set di Lego. Ah, non vi ho fatto vedere questo dietro. Lo trasformano anche in questo. E ora iniziamo. Voi sapete da quale iniziare perché io non lo so. Baccio mamma, ho l'aereo. Va bene, ora baccio mamma. C'è un piccolo pacchetto che sono le ali di Batman. O forse no. Un mantello. Ah, se voi non lo sapete ancora, io ho fatto sette anni. Ma visto me l'hanno legato per il mio nomastico. Invece di fare chiacchiere, dobbiamo costruire. Allora. 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 Lina. Allora. Allora. So. Allora. Significando. Allora. I like. Florian e zonata. I can clue every punto. oh ma devo ancora finire di montareare Batman questa è di Batman e qua c'è il pipistrello perché così è molto popolare continuiamo ho sbagliato ho sbagliato e devo fare un altro pezzo sto facendo la sella guardatevi cosa ho costruito c'è Batman adesso andrò a fare i cattivi e ora dobbiamo costruire un'altra moto ora costruiremo la busta numero 2 questa c'è la faccia cattiva dietro mi metto il casco mi metto il casco perché così non si vede la faccia cattiva questo qua si caricò con la luce ed è fluorescente è tutto verde è bellissimo bene ben finita sono finite tutte e due e ora passiamo a l'aereo che si potrà essere così o così copre il set di Batman e ci vediamo nel prossimo video ciao belli iscriviti e lasciarle like ciao 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 ciao